Siamo insieme all'ingegnere Eleni Assantini e all'assessore Fanesi per capire bene questo ampio piano di asfaltature che state mettendo in piedi e che partirà appunto lunedì perché è un intervento complesso che necessita di diverse fasi e diversi tipi di intervento. Sì anche dalla collaborazione aggiungerei dei residenti, dei cittadini perché è molto importante interveniamo con un importo direi molto importante anche questo da 700 mila euro nell'ambito del piano delle asfaltature 2016 lungo un'arteria tra virgolette vitale per la nostra città cioè la statale 16 nella parte della città verso sud e quindi ovviamente è un intervento molto importante esteso e che interessa tantissimi accessi, tantissime case. È un intervento appunto come dicevo nell'ambito di questo piano di interventi più ampio che ci ha permesso visto la sua grandezza come intervento 4 milioni che vorrei ricordare quest'anno riusciamo a fare tanti più asfalti rispetto agli ultimi dieci anni anche perché c'era il patto di stabilità quindi un intervento molto importante che riguarda appunto questa arteria e l'abbiamo fatto in maniera molto scientifica abbiamo come dire affrontato questo piano di interventi in maniera scientifica affidando un incarico all'università degli studi di San Marino che insieme a noi ha studiato la situazione delle strade fanesi ci ha proposto delle soluzioni e soprattutto verificherà che le ditte facciano bene il loro lavoro alla fine dell'attività che come sapete tutti dovranno finire necessariamente entro il 31 12 2016 in quanto dovranno essere pagate queste ditte. Infatti questa volta ed è una delle pochissime volte forse la prima volta che viene fatto all'interno del comune di Fano oltre a fare l'asfaltatura abbiamo predisposto una campagna di analisi facendo dei carotaggi quindi delle piccole carote nelle strade quelle ovviamente non tutte ma le strade che erano interessate a questi interventi abbiamo potuto studiare attraverso la sezione che ne risultava anche gli interventi che si dovevano fare. Ovviamente i carotaggi poi si faranno anche alla fine dell'intervento per verificare che le ditte abbiano lavorato in maniera corretta quindi abbiamo magazzinato tutto presso i nostri magazzini appunto di Ponte Metauro lì alla fine li riprenderemo per verificare che i lavori siano stati fatti correttamente o comunque secondo le nostre istruzioni. Inoltre abbiamo fatto anche dell'analisi di tipo diverso un'analisi che non avevamo mai fatto che è lo skid tester che serve per verificare la rugosità della strada e quindi verificare anche la tenuta appunto del manto stradale e abbiamo visto che in alcuni casi c'erano proprio delle situazioni abbastanza strane e i nostri asfalti per una serie di ragioni forse la scelta dei materiali, il clima oppure il traffico che si passa non erano aderenti come la norma per vede. Quindi ovviamente siamo intervenuti in questo caso in maniera particolare per cercare soluzioni per risolvere questo problema. È chiaro che soprattutto lungo la statale l'aderenza è molto importante soprattutto in fase di frenata, è ovvio perché ci sono una serie di attraversamenti quindi da questo intervento oltre che sistemare la strada, allungarne la vita, fare un lavoro anche di riqualificazione estetica tra virgolette della strada, miglioriamo la sicurezza e questo direi che è un tema molto molto importante. Questo intervento parte dalle colonne del ponte sul fiume Metauro verso la città di Fano, interessa tutta la quindi la statale 16 che nella parte cittadina diventa via l'epiceno e poi via Pisacane fino alla ferrovia, la stazione ferroviaria, prosegue in via 12 settembre praticamente davanti alle commerciali fino alle rotatorie di via Cavour, poi ancora prosegue per via le Gramsci fino a Porta Maggiore dove da Porta Maggiore partiamo lungo via Roma quindi passando attraverso diciamo sopra il ponte storto arrivando fino a Centinerola indicativamente fino alla rotatoria del Barbadioli che poi c'è lo svincolo per andare a Centinerola che anche quella strada fra l'altro sarà asfaltata non in questo lotto. Quindi è un intervento molto importante, abbiamo usato una tecnica innovativa che è quello dello slerry seal, interverremo ovunque e salteremo ad eccezione del tratto antistante all'ex mulino Albani perché c'è in corso un convenzionamento per un recupero appunto del mulino Albani e quindi quella parte lì per non spercare i soldi la faremo fare alla ditta lottizzante quindi diciamo l'escludiamo da questo intervento e crediamo di farlo anche in maniera oculata per le casse pubbliche. Successivamente nei prossimi anni fra l'altro interverrà in questa in questa strada nei pressi anche Aset Spa che però interverrà nella parte di marciapiede diciamo lato monte per cui ovviamente questo intervento diciamo è coordinato anche con Aset così come tutti gli altri interventi che stiamo facendo in questo lotto in questo anno 2016 è molto importante per noi perché c'è un coordinamento tra quello che fa Aset e quello che facciamo noi. Aset infatti interverrà ma abbiamo prescritto un intervento sul marciapiede lato monte per cui non rovinerà questo intervento che andiamo a fare che appunto come dire riqualifica mette in sicurezza la strada statale. Inoltre particolare attenzione l'abbiamo fatta per sensibilità e per scelta politica particolare attenzione sarà come dire riservata anche alle piste ciclabili che noi vorremmo marcare anche in maniera più evidente lungo tutto il tratto interessato dalle attività di asfaltature ai lati a destra e a sinistra della strada perché insomma teniamo molto anche alla sicurezza ovviamente oltre che dei pedoni degli automobilisti anche dei ciclisti quindi saranno sedi ricavate ed evidenziate in maniera opportuna. Ecco voi chiedete anche insomma la collaborazione della cittadinanza per questo intervento lungo proprio tutta la nazionale perché avanzando di tre metri in tre metri chi ha l'intervento davanti casa in un certo periodo dovrà appazientare un attimo. Sì la strada essendo larga circa nove metri probabilmente interverremo nella maggior parte dei casi interverremo con strisce da tre metri di asfalto. Dunque siccome questo intervento è un po' delicato perché innovativo eccetera sarà assolutamente vietato passare in quell'ora ora e mezza in cui come dire questo materiale si catalizza. Dunque sarà impossibile attraversare questa striscia di asfalto e per cui chiediamo la collaborazione. Crediamo che valga la pena di fare questo sforzo ma sicuramente chiediamo la collaborazione per avere pazienza perché ovviamente stiamo facendo un lavoro per la città di Fano e in questo caso questo metodo innovativo sarà impossibile utilizzarlo subito dopo essere steso. Anzi col calore, con la luce del sole catalizza e quindi anche la scelta dei tempi è opportuna anche perché possa essere fatta in maniera come dire più resistente nel tempo. Ecco d'altronde comunque è soltanto un lasso di tempo molto limitato, un'ora, un'ora e mezza basta organizzarsi un attimino, informarsi un po', capire quando passa insomma il pezzo davanti casa e poi insomma ci si regola di conseguenza ma insomma il fine giustifica i mezzi perché poi insomma il risultato sarà non solo estetico e insomma di miglioria ma anche sulla sicurezza come abbiamo sentito dall'assessore Fanesi. Altra cosa invece dal Ponte Storto in quella zona ci saranno interventi di altro tipo che non riguarderanno le ore di urne ma bensì ci sarà un intervento studiato in ore notturne, serali. Sì perché lo slerry seal è un tipo di intervento che va a coprire diciamo una pavimentazione che comunque non è deformata quindi dove abbiamo rilevato quei casi dove abbiamo delle deformazioni abbastanza rilevanti e dove i carotaggi stessi hanno rilevato che lo strato di bander non è sufficiente interverremo proprio rifacendo quel pacchetto di 10-15 cm che è necessario per dare alla pavimentazione una certa duratura. Quindi abbiamo deciso di intervenire in particolare nel tratto di via Roma che va dal rotatore dell'arco d'Augusto fino alla rotatore di via Palazzi attraverso dei rifacimenti profondi in miso cementato e solo per quel tratto lavoreremo nelle ore dottorne in accordo con la ditta che fa i lavori. Un altro intervento diciamo diverso da quello che abbiamo descritto è proprio nelle rotatorie. Nelle rotatorie lì scegliamo invece di intervenire attraverso il pacchettino di usura cioè andremo a fresare e intervenremo attraverso lo strato di usura proprio perché ci garantisce una maggiore aderenza e per evitare che quello che avviene con lo slerry seal che in realtà non funziona quando abbiamo dei raggi di curvatura con lo strato di usura abbiamo la garanzia che nelle rotatorie la pavimentazione rimanga durevole. Un'altra cosa importante è che la pavimentazione rispetto alla pavimentazione della pista ciclabile la realizzeremo dappertutto e lo slerry seal lo realizzeremo dappertutto nei tratti anche davanti al comparto dell'ex mulino Albani e lì non realizzeremo la pista ciclabile proprio perché in futuro la pista ciclabile sarà realizzata in sede propria maggiormente protetta e finalmente avremo attraverso il comparto l'unione tra la pista ciclabile esistente e quella che corre davanti per capirci alla zona di scambio degli autobus. Però lì lo slerry seal comunque lo faremo per garantire la sicurezza anche se poi ci saranno i lavori successivi. Diciamo anche che lo slerry seal richiede un tempo di catalizzazione, di riposo dalla segnaletica di almeno 20 giorni. Quindi purtroppo dove viene fatto questo tipo di intervento ci saranno i segnali di cantiere che comunque danno sempre indicazioni di un limite di velocità di un cantiere. Però lì non potremo intervenire in modo immediato con la segnaletica orizzontale proprio perché è il tipo di intervento che richiede un periodo di riposo. Bene, comunque questo era per farvi capire in maniera più approfondita, in maniera più tecnica se vogliamo e anche in maniera più concreta che cosa avverrà in questo tratto di strada, di nazionale così importante per Fano. Comunque sia mi sento di dire Assessore che siete sempre a disposizione della cittadinanza per qualsiasi chiarimento, se alcuni aspetti non sono chiari, soprattutto sulla viabilità, voi siete a disposizione. Assolutamente, ieri abbiamo fatto un'assemblea anche a Ponte Metauro per spiegare appunto queste cose, potremmo fare anche delle altre ma comunque in comune i tecnici, la direttrice dei lavori Ilenia Sentini, il RUP, Maria Angela Giommi sono ovviamente a disposizione e tutto l'ufficio tecnico è a disposizione della cittadinanza anche per delle richieste, delle osservazioni, dei consigli per trovare le soluzioni migliori. Grazie per la visione!